La luna ci è stata creata per farci vedere i tempi, ok? Tutto questo è un'altra lezione da vedere, ok? Tali furono le origini del cielo e della terra quando quelle cose furono create nel giorno che il Signore Yahawa fece la terra e il cielo e ogni albero ed abuscello della campagna avanti che ne fosse alcune sulla terra ed ogni erba della campagna avanti che ne fosse gemogliate alcune perciò che il Signore Yahawa non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non aveva alcun uomo per lavorare la terra, ok? O un vapore saliva dalla terra che adacquava, ok? Tutta la faccia della terra Qui cosa vuol dire? Gli uomini a quell'epoca non dovevano lavorare la terra, ok? Ok? Non dovevano lavorare la terra perché c'era il vapore che saliva e non c'era nemmeno la pioggia, ok? Perciò le cose crescevano naturalmente senza la pioggia e tutto il resto, ok? Anzi andiamo a leggere della nuova riveduta, 94 Ok? Allora Poteri E Yahawa formò l'uomo dalla polvere della terra Gli soffiò nelle narici un alito vitale E l'uomo divenne un'anima vivente Questa è sempre la spiegazione di quello che è successo, ok? Quando ha creato il popolo Adamo, ok? Il primo Adamo Quando ha creato il popolo Adamo Li ha creato dalla polvere della terra Ok? Che la polvere della terra se andate a vedere le radici Vuol dire confusione, ok? Confusione, ok? E di soffiò nelle narici un alito vitale Questo alito vitale Sono le sue leggi Le sue regole, ok? Perché tutti gli altri esseri viventi non avevano questa legge Delle altre nazioni Tutti gli altri uomini non avevano questa legge qua Ma il suo popolo Adamo Aveva questo alito vitale, ok? E divenne un'anima vivente E per farvi capire che Noi senza Sì, ho fatto già Ho fatto già Una lezione nel passato Sul libro di Ezechiele Che dice che Il titolo del video è Siamo zombie senza 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 le parole del padre Sei un uomo Sei un zombie vivente Anzi, ve lo vado a tirare fuori E se chiede 37 Allora Ok, qui Dice Questo è Ezechiele 37 La mano del Yahawa fu sopra di me No, la mano del Yahawa fu sopra di me E il Signore Yahawa mi trasportò Mendianto lo spirito E mi depose In mezzo a una valle piena di osse Mi fece passare Preso Di esse Tutto attorno Ecco Erano numerosissime Sulle superfici della valle Ed erano anche molte secche Ok? Era una valle piena di ossa Ok? Mi disse Il figlio d'uomo Questa ossa potrebbe vivere E io rispossi Signore Yahawa Tu lo sai Egli mi dice Profetizza su queste osse E di loro Ossa secche Ascoltate la parola del Signore Yahawa Così dice Il potere E il Signore Ha questa ossa Ecco Io faccio entrare in voi lo spirito E voi riveverete Metterò su di voi Dei muscoli Farò nascere su di voi Della carne Vi coprirò di pelle Metterò in voi lo spirito E riveverete Questo vi sembra Avete visto che è la stessa cosa Che in Genesi? Ok? E ha dato il sospiro Di vita E conoscerete che io Il Signore La profetizzai Come mi era stato comandato E come io profetizzavo Si fece un rumore Ed ecco Un movimento Di ossa si Accostarono Le une alle altre Lo guardai Ed ecco Venire su di esse Dei muscoli Crescevi la carne E la pelle Ricoprirle Ma non c'era in esse Nessun spirito Allora Egli mi dice Profetizza lo spirito Profetizza figlio d'uomo E dia lo spirito Così parla Yahweh Yahweh il Signore Viene Israele Avete visto? Tutta la casa di Israele Sono uomini Che muovono Ok? Ma senza Questo sospiro di vita Che è La parola del padre Ok? I suoi comandamenti I suoi statuti Erano delle osse secche Avete capito? E la stessa identica cosa Che è successo qui Nel libro di Genesi Capitolo 2 Che abbiamo letto E i poteri Formò l'uomo Dalla polvere Dalla confusione E li soffiò Nelle narici Un alito vitale E l'uomo diventa Un'anima vivente Era già vivente Dal quattro giorno Che li ha creato Dalle acque Ok? Ma ha preso Il suo popolo Che abbiamo letto prima Capitolo 5 Ok? E ha fatto Gli ha fatto mettere La vita Ok? Attraverso La sua conoscenza I suoi statuti Che abbiamo letto Nel libro di Ezechiele Adesso Ok? Spero che voi Lo abbiate capito Perché Questa verità Non è data a tutti Ripeto sempre A coloro Che è stato dato Capiranno Senza problemi Ok? E qui E in più Leggete come Libro di Giacomo 1 Mi sa 4 Che dice Ah Colui che manca La sapienza La conoscenza Chiede al padre Yahao Bashem Yahao Shai Li verrà dato Ok? Coloro che cercano La verità Con la sincera Con la sincera Motiva Ok? Con sincerità Gli verrà dato La conoscenza Se sono della casa D'Israele Prima di tutto I poteri Ok? La gente Diventa matta Quando sente La parola Eden E dice Oh Ci dovrebbe essere Il giardino D'Eden Qua L'acqua La terra E Anzi Andiamo a vedere Da un'altra Da un'altra versione Come lo dice Diamo la Diodati Sì Riveduta 24 Dice L'Eterno Il Dio Piantò Un giardino In Eden In Oriente Ok? Avete visto? In Oriente Eden Significa La terra Ok? Eden È la terra È in Oriente Dove è l'Israele Oggi Israele È in Oriente E qui Vi pose L'uomo Che aveva Formato E l'Eterno Yahawa Fece Spuntare Dal suolo Ogni sorta Di alberi Piacevoli E Vedersi E qui Il frutto Era buono Da mangiare L'albero Della vita In mezzo Al giardino Che questo Albero Si parla Dell'albero Dei suoi statuti Ok? Della vita Ok? È l'albero Della conoscenza Del bene E del male E un fiume Usciva Dall'Eden Per Ad acquare Il giardino E di là Si Spartiva In quattro bracci Il nome Del primo È Piston Ed è quello Che circonda Tutto il paese Di Avila Dove è l'oro E l'oro Di quel paese È buono Qui vi si trova Pure Il delio E l'onice Il nome Del secondo Fiume È Gilihon Io Questi posti Qua Vi avrei voluto Far vedere Ma non voglio Tenere Troppo lungo Questa lezione Che non ho neanche Preparato Tutto quello Che avevo bisogno Non ci avevo Pensato Di arrivare Questo sarebbe Tutta un'altra Lezione Comunque Che ci sono Le mappe Che fanno Vedere Queste acque Qua Dalle parti Di Israele Queste acque Che sta dicendo Che sono Proprio Sono là Sempre Ok Il nome Del secondo Fiume È Gilihon Ed è quello Che circonda Tutto il paese Di Kush Il nome Del terzo Fiume È Idekhel Ed è quello Che scorre All'oriente Della Siria E il quarto Fiume È L'Euphrate Questo La conoscete Che rimane Sempre Quello Le teno Iahwa Preso Dunque L'uomo E lo pose Nel giardino Di Eden Perché Lo lavorasse E lo custodisse E l'Eterno E Dio Diede All'uomo Questo comandamento Mangia pure Liberamente Del frutto Di ogni albero Del giardino Ma del frutto Dell'albero Della conoscenza Del bene Del male Non mangiare Perché Nel giorno Che tu Ne mangerai Per certo Morai E questo albero Che sta dicendo Non è proprio Un albero Questi alberi Sono Di diverse Nazioni Che hanno circondato Ok Questi alberi Significano Delle nazioni Ok E qui Possiamo Prendere Anche Un precetto Che vi Dà la prova Di questa cosa Qua Non so Perché Il telefono Comincia A fare così Adesso Mi viene In mente Scusatemi Scusatemi Ecco Ecco Se leggete Dal libro Di salmi Ok 92 C'è Usa I padri Usa Anzi Anzi Andiamo Libro Di salmi Scusatemi Qui salmi 92 Vediamo Da 12 Che dice Il giusto Fiorirà Come la palma Crescerà Come il cedro Del Libano Avete visto Questa è la La prova Che cercavo Ok Per dirvi Che i padri Eravamo In capitolo Due Ok Questi alberi Che rappresentavano Le altre nazioni Ok Ma questo qua Questo qua Era la filosofia Le loro filosofia Ok Dove è? E dice Ma del frutto Dell'albero Della conoscenza Del bene Del male Non ne mangiare Perché nel giorno Che tu ne mangerai Per certo morrai E qui Sta parlando Proprio Sta parlando Delle conoscenze Che le filosofia Del mondo Del mondo Le filosofia Dei figli Dei malvagi Che erano già Anche Tutti creati Là Ok Che c'era Che c'era già I malvagi Tra tutte le altre nazioni Che ha creato Dall'acqua Perciò La differenza Tra queste nazioni Erano Che non avevano I statuiti Non avevano L'alito Del padre Che sono I suoi statuiti I comandamenti Perciò Avevano diverse Conoscenze Che portavano Alla morte Infatti Le conoscenze Di guerra Le conoscenze Del maligno Le stregonerie E diverse cose Ed è questo Che rappresentava Questo albero qua Una cosa che dovete capire Che le scritture Non sono scritte In tante parti Sono allegorie E ci vuole Lo spirito Del padre Per farvi capire Ok A chi non è dato Non lo capirà Ok E poi le scritture Non sono scritte Tutti diretti Così Giusti Di tempismo Si passa Da un tempo A un altro E si torna Sempre nel tempo Per esempio Il libro Di Apocalisse È un libro potente Parlava Del passato Del futuro È tutto un miscuglio Non c'è una cronologia Giusta Ok Si capisce Attraverso lo spirito È la stessa cosa Qui Ok Avete visto Qui Siamo andati avanti E ora Vedrete che Torneremo sempre Dietro di nuovo Poi Le teno Le teno Di sé Non è bene Che l'uomo Sia solo Io gli farò Un aiuto Che gli sia Convenevole Qui siamo tornati Dietro Da quando Sono state Create Le nazioni Della Damm Ok E l'eterno E Dio Avendo formato Dalla terra Tutti gli animali Dei campi E tutti I uccelli Dei cieli Li menò All'uomo Per vedere Come li chiamerebbero E perché Ogni essere vivente Portasse il nome Che l'uomo Li darebbe E l'uomo Dette Del nome A tutti I bestiame I bestiame I uccelli Questo è tornato Dietro Quando il padre Ha creato Il suo popolo Di Adam Era Questo popolo Di Adam Attraverso Il suo Primo Il primo Là Di questo popolo Che si chiama Adam Ok Il suo popolo Si chiamava Dal suo nome Ok E lui Ha dato Il nome A tutti I bestiame Gli animali Ok E E Vado avanti E qui L'uomo Disse Questa finalmente Allora Qui L'Etenno Iahua Con la costola Che aveva tolto Dall'uomo Formò Una donna E meno E la menò All'uomo Cioè Non Non sta dicendo Che Ha proprio preso Literalmente La costola Dell'uomo Ok Non è questo Che è successo Ha preso Una donna Dalla costola Vuol dire Dal suo popolo Ok Ha preso Eva Dal suo popolo Dal popolo Di Adam E l'ha dato Adam Per farla diventare La sua mole Comunque qui Siamo tornati Un po' dietro Nella cronologia Ok Perciò L'uomo Lascerà Suo padre E sua madre E si unirà A sua moglie Saranno Una stessa carne Ok L'uomo E sua moglie Erano entrambi Nudi E non ne avevano Vergogna Questo nudo Non vuol dire Che erano Literalmente Nudi Ok Erano Senza Erano Erano nudi Vuol dire Che erano Cosa Avrei Erano Erano Non avevano ancora La conoscenza Del Del Mavajita Ok Erano Sani Sani Ok Questo che Intendeva Non è che Erano Literalmente Nudi Ok E tutto Vi avevo detto Prima Che le scritture Sono scritte In modo Non per Alla fine Il padre Ha fatto Tutto questo Per confondere La chiesa E i malvagi Che hanno cercato Di cambiare Questo libro Tante volte Ok Come vi dicevo Gli alberi Gli alberi Non rappresentavano Proprio Literalmente Alberi Gli alberi Desonavano Altre nazioni Come vi avevo detto Le orse secche Che abbiamo letto Nel libro Di Ezechiele Prima Quando il padre Ha fatto il suo soffio Nell'uomo E l'ha reso vivente Lui era già vivente Ma Non era vivente Perché non viveva D'accordo Alla legge Del suo creatore Perciò Tutte le altre nazioni Come abbiamo letto Sono nulla Per il padre Come abbiamo letto In tanti versetti Nel passato Ok Il padre Riconosce solo Il suo popolo Di Israele Che prima di essere diventati Israele Erano il popolo Di Adam Ok E questo soffio Che ha fatto Sono i suoi comandamenti Statuiti Che gli è stato dato Perciò i comandamenti Sono sempre stati Dall'inizio Ok Non è da Da Mosè Sono sempre stati Dall'inizio Poi si perdeva Venivano puniti E si ritrovava di nuovo Perdevano Verranno i puniti Come adesso Sono andati persi Ma Li stiamo I padri Ha cominciato A ridarci Perché Sono sempre qui Ma siamo noi uomini Che andiamo dietro A delle cose Che non ci fanno bene Perciò Qui erano Nudi E senza Non avevano Vergogna E Si Avevano La conoscenza Pura Ma non avevano La conoscenza Del male Le altre filosofie Non li ha corrotto Ancora Ok E questo Che Si intende E andiamo Il serpente Era il più astuto Di tutti Gli animali Dei campi Che I dei Che Yahweh Aveva fatto Questo serpente Non sta parlando Di un serpente Letteralmente Sta parlando Di un popolo Ok Sta parlando Di un popolo Là Anzi Andiamo a prendere Qui Si trova In Matteo 12 34 34 34 Razza di vipere Come potete Dire cose buone Essendo malvagi Avete visto Poiché Dall'abbondanza Del cuore La bocca Parla Qui Avete visto Sta dicendo Voi O voi Dovete leggere Comunque tutto Il resto E lì c'è Razza di vipere Ok Come potete Come potete Così dire Buone cose Essendo malvagi Qui Questa razza di vipere Dei malvagi Perciò Non stava parlando Direttamente Del serpente Ok Era una razza Ok Che questa razza Dei malvagi C'è sempre stato Ok Erano creati Nel quarto giorno Con tutte le altre nazioni Ricordatevi Ok E Andiamo avanti Esso disse Alla donna Come Alla donna Vi ha detto Di non mangiare Da nessun albero Del giardino La donna rispose Al serpente Del frutto Degli alberi Del giardino Ne possiamo mangiare Ma del frutto Dell'albero Che è in mezzo Al giardino Alla donna Ha detto Non ne mangiate E non lo toccare Toccate Altrimenti Morirete Il serpente Disse alla donna No Non morirete Affatto Ma Alla haiam Sa che Nel giorno Che ne mangerete I vostri occhi Si apriranno E sarete Come Alla haiam Avendo la conoscenza Del bene E del male Ok Perciò Non è La mela Non è un albero Littero Ok Come La chiesa Cerca Cerca Che la religione Ci ha fatto capire Perciò Queste sono le chiave Per capire Questo libro Attraverso Il potere Del padre Yahweh Nel nome Di suo figlio Yahweh Sto 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 cercando Di impartirvi Questa conoscenza Qua Perciò Ripeto Di nuovo La conoscenza Non è Dato per tutti Perciò Io non aspetto Che questa conoscenza Lo avranno tutti Solamente I scelti Gli eletti Della casa D'Israele Lo potranno capire Ok Per l'ennesima volta Il serpente Vuol dire Il seme Dei malvagi Il popolo Dei malvagi E ho fatto un video Nel passato Chi sono i malvagi Ok Poi Cominceremo Da qui Arrivare anche A farvi capire Che la terra In sé E tutto È Tutto Una rincarnazione Ok Questo sarà Una lezione Diverso Un passo a volta Ok Perciò Questi semi Questo albero Che dice Il frutto Sono le filosofie Ok La stregoneria Sacrifici Ai diavoli Tutte queste cose La conoscenza Del male La conoscenza Di guerra Armeria Tutte le cose Che non fa bene Ok Ed è quello E Che cosa è Dice che Il giorno Che tu mangi Da questo frutto Morirai Ok Che cosa è È la morte Il peccato Ok Andiamo a leggere Andiamo a leggere Velocemente Così Spero che Voi state Capendo The wages Si trova nel libro Di Romani Ma non mi ricordo Dove Romani 623 Eccoci Romani Romani 6 e 23 Perché Perché il salario Del peccato È la morte Ma il dono Di Al-Hayim È la vita Eterna Nel 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 Nostro Messia Yahawashai Nostro Signore E questa parola Cristo vuol dire Il Messia Ok Questo Cristo È stato aggiunto Dopo Che vuol dire Tutta un'altra cosa Che ho fatto Un video Su Già In passato Comunque Qui Ricordatevi Il salario Del peccato È la morte Ed è da quello Che ha detto A Adamo E Eva Che il giorno Che mangerete Dalle filosofie Che comincerete A imparare Queste filosofie Da questo Popolo Dei malvagi Voi Morirete È questo qua Ok Il dono Del padre Yahawaba Shem Yahawashai È la vita Eterna Ok Il suo dono Che sono i suoi statuti I suoi comandamenti È la vita Eterna Ok Spero Che là Ci siamo Capiti Ok La donna Anzi Voglio puntare fuori Una cosa Avete visto Perché Non è andato Non sono andati Dall'adamo Perché sono andati Dalla donna Dall'eva Perché La donna Ha la tendenza È più È più facilmente È più facilmente Lavata Il cervello Ok Non è come uomo L'uomo è il primero La donna è stata creata Per l'uomo Ok È molto importante Quel versetto Che hanno visto Che l'uomo Non poteva stare da solo Allora Hanno creato Una donna Per lui La donna È stata creata Per l'uomo Non l'uomo Per la donna Come la società Di oggi Ci fa capire La donna È molto inferiore Quando riescono A far cadere La donna Allora Riusciranno A far cadere L'uomo Ok La donna E l'uomo Non sono uguali Per niente E non sono Dell'altezza Giusta Uguale L'uomo Prima Poi La donna Ok Come c'è Anzi C'è un versetto Credo Sia questo Primo Corinzi Undici Tre Primo Corinzi Undici Tre Ok Qui Vedete Ma voi Che sappiate Che il capo Di ogni uomo È il messia Yahweh Che il capo Della donna È l'uomo Ok E il capo De Yahweh Che è il padre Che è il padre Come vi avevo detto Prima Noi non siamo Degni Del nome Del padre Yahweh E non siamo Degni Di arrivare a lui Per arrivare a lui Ci vuole Il suo figlio Yahweh Il nostro mediatore Ok E la donna Deve fare Riferimento All'uomo Ok La donna Deve fare Riferimento All'uomo Ok Non l'uomo L'uomo Non è fatto Per la donna E il capo Della donna È l'uomo Avete visto? Perciò È molto profonda E spero che lo stiate capendo Questa cosa qua Ecco perché Vanno direttamente Alla donna Perché la donna È meno È meno Dell'uomo E Non ha coraggio Di cose È facilmente Inganata La donna Ecco perché Il seme Dei malvagi Il diavolo È andato Della donna Ok E l'ha fatta Imparare Queste filosofie Ha portato Le filosofie A Suo marito Ok E a quel giorno Abbiamo cominciato A camminare Nella Cattiveria E poi Siamo stati Cacciati Fuori Dal giardino Che è la stessa Cosa Che è successo Che i figli D'Israele Hanno cominciato A perdere I comandamenti A non seguire E sono stati Cacciati fuori Dalla terra Di Israele Sono stati Portati come schiavi In altre nazioni Avete visto Che è una Rincarnazione Tutto questo Ed è questo Che è Io spero Io spero Che questa Lezione L'abbiate Capito Queste sono Le chiavi Per capire Per capire Questa Lezione Qua E Sì Poi Se volete Saperne Di più Potete Lasciare Un commento Su Sì Chiedendomi Cosa volete Sapere A riguardo Il libro Di Genesi Perché Penso Che questo Sia abbastanza Vi ho dato Abbastanza Chiavi Nel nome De Yihaw Bashem Yihaw Asha Vi ho dato Abbastanza Chiavi Per andare Avanti Nel vostro Percorso Per capire Questo libro Di Genesi Che Ci vuole Tanto Lo spirito Lo spirito Santo Che si chiama Rukaku Dash Per capirlo Spero Siete stati Edificati Ok È una lunga Lezione Credo Di farla In due Parti E Voglio dare Tutti Lodi Ringraziamente È tutto Dovuto Al padre Yihaw Nel Nome Di suo Figlio Yihaw Asha Ok I miei onori Doppi onori Agli apostoli E anziani Della Great Meuston Per avermi Insegnato Questa Verità E Dico Pace Alla Casa D'Israele Shalom Alla Alla Grazie a tutti